Chiudiamo oggi il Villaggio per la Terra, un'esperienza straordinaria che è andata ben oltre le aspettative in termini di partecipazione, di entusiasmo, oltre 150 organizzazioni insieme per parlare di sostenibilità e attraverso tre grandi blocchi, l'educazione ambientale, l'economia circolare, la mobilità sostenibile, tre strade per uno sviluppo sostenibile del pianeta, ma anche e soprattutto una grande festa per comunicare alla gente, al cuore della gente attraverso le emozioni dello sport, dello spettacolo qual è il cambiamento da intraprendere, qual è la radice del cambiamento da intraprendere.